ciao questo è un nuovo video che il solito che faccio quando riesco a recuperarmi qualche film nuovo nel guardare che li volevo dedicare questo video proprio il regno del pianeta delle scimmie che mi sono visto ultimamente che come film era nuovo che in certi ho visto che in certi cinema lo stanno ancora proponendo come film anche se è riuscito come si dice già da come si dice già da mi sembra quelle due settimane che avevano già messo nelle sale del cinema che in teoria magari il primo trailer però ho visto che lo avevano già diffuso il 2 novembre dell'anno scorso del 2023 però come film inizialmente come data d'uscita inizialmente l'avevano fissata quello che ho capito io verso la fine di maggio per il 24 per 24 maggio del 2024 di quest'anno ma quello che ho capito io a posto dei 24 l'hanno fatta uscire l'otto di maggio sempre di quest'anno che come film chi magari stava seguendo magari questi film proprio del pianeta delle scimmie magari sicuramente se l'è andato magari a recuperare come film che solito magari come genere tocca azione fantascienza che come regista regia di questo film di questo west ball che che come si dice che magari il proprio la trama di queste serie di film che stavano facendo e ha proprio presa proprio come si dice proprio dal romanzo di per ball che come film due anche quelle due ore e venti qua due ore e venti minuti di film quasi quei 145 minuti quasi più o meno più o meno stava tipo andando tipo avanti con con questa stavano tipo andando avanti con proprio con questa storia proprio di questa saga del pianeta delle scimmie che come si dice che magari continuando magari la storia che sono passate magari generazioni dalla morte proprio del primo leader delle scimmie di queste scimmie senzienti che prima avrei questo il leader proprio di questo gruppo di questo di queste scimmie e a questo cesare e ora i primati hanno il controllo proprio del mondo ma non hanno sviluppato una società ma ecco così è evoluta ma noa vive infatti una piccola comunità in questa piccola comunità rurale che usa magari come to come torii tradici dell'altra attenzione ricoperti proprio dalla vegetazione di cui rubano le uova per crescere in modo che rispondano al canto proprio dei dei scimmie che questa comunità comunità viene razziata dal vicino regno di proprio proximus cesare che ha costruito una società magari questa società militare dittatoriale grazie alle armi elettriche che avevano proprio state fornite da un umano che ha lo prigioniero che gli aggressori cercano una giovane donna che troverà come si dice rifugio viaggiando insieme a noa e al saggio rango raga che custode nelle antiche lezioni proprio di questo di questo regno che più che altro magari questa continuazione morai di questo film come trama e a questa qualche che dopo la morte di questo cesare che ha lo leader di questo come si dice che ha proprio il leader e ai lo leader hanno continuato magari un po' la trama proprio delle di questa serie di film che a parte che magari io certi passaggi magari dei film magari precedenti magari certi particolari particolari nel corso magari per anno che hanno fatto questi serie di film e magari da parte mia certe particolari certe informazioni me li sono perse che certi passaggi non me li ricordo più però sto continuando a a seguire questa saga di questo pianeta delle cime che dovevi anche se mi sono andato a recuperare questo ultimo film dovrei magari mettermi lì e riguardarmi magari proprio magari tutti i film che sono usciti magari adesso per magari così mi possono mi possono mi possono tornare ma tornare in mente magari certi particolari certi passaggi proprio del film però è più che altro la trama la trama proprio di questo ultimo questo ultimo film era questa qua visto che è uscito da poco al cinema gli voglio ed è anche riuscito a ricoprarlo gli voglio dedicare questo video e portarlo magari sul mio canale che che come al solito magari vi lascio sempre sotto in descrizione magari come faccio di solito tutte le informazioni sul film se riesco a trovarle oltre magari al cast degli attori che hanno partecipato al video trailer che magari non voglio dire tanto sulla trama come si sviluppa amarei anche il il film che non volevo magari fare qualche spoiler perché magari non l'ha ancora visto però eh lascio amarei tutte certe informazioni magari sotto in descrizione e niente quello che potevo dire su questo film magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto magari sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao